Niente da fare per i consiglieri regionali uscenti di centrodestra che avevano presentato ricorso contro De Luca. Il Tribunale Civile di Napoli ha respinto le eccezioni mosse fra gli altri da Pietro Foglia di NCD e dunque il governatore resta al suo posto. A distanza di mesi dall'insediamento per effetto della Severino, in Campania si continua a parlare ciclicamente della posizione di Enzo De Luca. La prima sezione del Tribunale di Napoli dunque non modifica lo status quo e in attesa della pronuncia della Corte Costituzionale il governatore può restare al suo posto. Il reclamo presentato da Foglia e da altri consiglieri uscenti del parlamentino partenopeo era in particolare indirizzato contro la sospensione della sospensione che di fatto aveva consentito a De Luca di mantenere i pieni poteri. Nulla da fare dunque per i ricorrenti. Per il governatore regionale si tratta senza dubbio di un altro ostacolo superato nel suo percorso certamente accidentato fatto di udienze e confronti in punta di diritto. Soddisfazione per il pronunciamento del Tribunale di Napoli è stata espressa dagli avvocati del governatore i quali hanno sottolineato come con questa decisione abbiano vinto i cittadini la volontà popolare. Enesima puntata di una partita politica che si è trasferita nelle aule di giustizia ma che certamente non sarà l'ultima.